Caroselli di auto in via 25 Aprile, qui a Dariano e Irpino, il Neoletto Cusano festeggia così. Il nostro consigliere provinciale, Generoso Cusano, e il nostro presidente della provincia, Cosimo Sipilla, ringraziano tutti i loro elettori. Grazie, grazie a tutti. Un corteo ben augurante. Un corteo per ringraziare, un corteo che sta a significare quanto è stato grande questo popolo, Gianni. Lo voglio fare a nome di tutto, ma soprattutto lo faccio a nome del nostro presidente Cosimo Sipilla e lo faccio a nome del popolo della libertà. Grazie, cittadini. È un risultato importante per la provincia di Avellino. È stato un risultato unico. Ariano, come io, ho sempre sostenuto che la città di Ariano rappresentava la città trainante di questa tornata elettorale. E così è stato. Ariano ha dato il massimo, si è raggiunto quasi il 90%. È il massimo del massimo. Cosa pensa del ballottaggio? Il ballottaggio, io credo che il ballottaggio si tratta solo di ritornare alle urne il giorno 21, ma la cosa è già fatta. Il PDL c'è ad Ariano Irpino, così i manifestanti in questo corteo festoso per onorare il candidato alla provincia, neoeletto Gino Cusano. Il nostro consigliere provinciale, generoso Cusano, e il nostro presidente Cosimo Sipilla, ringraziano tutti i nostri elettori. Grazie.